Ciao a tutti e benvenuti all'Isola di Carta. Oggi volevo iniziare una serie di recensioni relative a Martin Misteri. Cercherò di fare la recensione dei numeri più importanti di questa serie e ovviamente volevo cominciare dal numero uno. Questa è la mia copia del numero uno tenuta in maniera eccezionale. Qui c'è la pubblicità del numero due e volevo appunto introdurvi a questo personaggio dicendo che Martin Misteri è nato in casa Bonelli nell'aprile del 1982 e rappresenta un po' lo Spartiac tra il vecchio modo di concepire i fumetti, quello che c'era attraverso Tex Zagor, e la nuova generazione, quella che invece sarà appunto quella di Martin Misteri, di Dylan Dogg e di Nathan Never. Lui è nato il 26 giugno del 1942, risiede a Washington Muse a New York, è laureato in archeologia e storia dell'arte e oltre a questo è definito il detective dell'impossibile. Nei numeri di Martin Misteri ci sono numerosi riferimenti appunto all'archeologia e quindi ai casi misteriosi relativi ad esempio agli UFO, relativi per esempio alla parapsicologia ma anche ad altri importanti quesiti storici come ad esempio il diluvio universale oppure il mostro di Loch Ness oppure chi ha inventato le barzellette e quindi è sicuramente una serie che a me intriga tantissimo perché a livello culturale è qualcosa che ti regala sempre qualcosa che nei libri di storia non riesci a trovare. Verosimilmente, questo l'ho detto tante volte, il riferimento delle storie di Castelli è anche a un giornalista degli anni settanta, Peter Colossimo, che si occupava di avvenimenti misteriosi e appunto ho intenzione di farvi parecchie recensioni di questo numero. Ma andiamo nello specifico a parlare di questo mitico numero uno. Allora, l'omicidio di un amico in Grecia e un misterioso ritrovamento nel mare delle Azzorre conducono Martin Misteri e Java a una succursale della perduta biblioteca di Alessandria, forse edificata dagli abitanti di Alessandria presso il Tempio di Luxor. Soltanto che la strada di Martin Misteri si incrocia contro con la setta oscurantista degli uomini in nero e vedremo proprio da questo primo numero che gli uomini in nero sono la vera e propria memesi del protagonista. Gli uomini in nero sono l'espressione proprio di un potere che vuole controllare tutto e tutti con l'anelito a una libertà e a una democrazia del pensiero e del sapere che è incarnata invece da Martin Misteri. Questa setta segreta degli uomini in nero si oppone in maniera clamorosa proprio contro la libertà di conoscenza. La potremmo definire una setta di tipo massonico come oggi è praticamente quella del potere e io ho visto proprio un messaggio molto attuale da parte questo numero uno ma anche in tanti altri abiti di Martin Misteri proprio in riferimento agli uomini in nero che oggi ci controllano in qualche maniera e non vogliono. Noi comunque sappiamo come stanno davvero le certe verità e questo potrebbe essere riferito anche alla pandemia del Covid ma anche a altre situazioni come per esempio quella che è la guerra in Russia che c'è in questo momento contro l'Ucraina. Ecco, senza entrare nel merito e senza voler polemizzare o praticamente diffondere idee appunto diciamo così sovversive, io ho visto in questo numero di Martin Misteri la rappresentazione proprio di questi uomini in nero come se fossero praticamente una setta segreta di ordine massonico che controlla il mondo così come accade in Martin Misteri così anche nelle vicende che noi siamo abituati a vivere quotidianamente. Oltre a questo mi premi sottolineare che questa prima storia in questa prima storia i disegni sono di Alessandrini e devo dire che nonostante io non è che non è che mi piacciono particolarmente, però in questa storia il suo tratto in cui i disegni sono molto abbozzati mi sono piaciuti, mi sono piaciuti particolarmente. Ecco vi faccio vedere qualche tavola di questo primo numero e un'altra cosa che mi va di aggiungere è che oltre a Martin Misteri qui compare per la prima volta quello che sarà la sua spalla e cioè Java. Questa sarà una caratteristica tipica di molti numeri di molte serie Bonelli cioè affiancare un eroe in questo caso già a Martin Misteri viene affiancato appunto Java affiancare appunto una spalla all'eroe di turno quindi Martin Misteri e Java, Dylan Dogg e Graucio, Zagor e Cico e così via dicendo. Quindi compare appunto per la prima volta questo uomo di Neandertal che sarà appunto che farà da spalla a Martin Misteri per tantissimi numeri. In questo caso il detective dell'impossibile assomiglia più a un Indiana Jones che al buon vecchio zio Martin e questo perché ovviamente Castelli sicuramente si è rifatto appunto alla figura di Indiana Jones che in quegli anni proprio nel 1982 la faceva veramente da protagonista il film appunto di Indiana Jones e quindi c'era questo questo desiderio di voler scoprire attraverso l'archeologia interessarsi di queste cose così misteriose. Certo forse oggi potrebbe sembrare un po' datato anche le storie oggi di Martin Misteri potrebbero sembrare un po' fuori al tempo però devo dire che a me è un personaggio che intriga sempre moltissimo. In Martin Misteri si sono susseguiti anche altri sceneggiatori tra l'altro trovate un video qui sotto che vi consiglia nel mio canale appunto tutte le letture migliori di Martin Misteri. Ovviamente oltre ad Alfredo Castelli io ho trovato davvero eccezionali anche le storie di Paolo Morales ma non solo di Paolo Morales per esempio mi piacciono molto anche le storie di Vincenzo Beretta di Giovanni Ecker e quindi sceneggiatori che sicuramente sono stati davvero all'avanguardia nella serie dedicata a Martin Misteri. Tra i disegnatori non posso non citare ad esempio Giovanni Romanini che purtroppo è scomparso un poco tempo fa e che ha disegnato molti numeri di Martin Misteri ma anche Giovanni Freghieri sicuramente un altro disegnatore interessantissimo che ha prestato la sua opera appunto su Martin Misteri. E come vi dicevo appunto questa è una serie che sicuramente appunto Castelli ha attinto certamente da un giornalista che negli anni 70 si occupava di fatti misteriosi come Peter Colossimo e quindi i numeri appunto di questa serie sono sicuramente interessanti. Bene io vi ringrazio per mi ascoltato vi saluto dall'Isola di Carta. Ciao a tutti e ciao da Massimo.